Ultimo mio acquisto, cucina, cucina, casa ancora da pulire, mega stanza doppia, doppia, questo verrà buttato via, qui ci va la partition, questa diventerà la living room, bella grande e spaziosa, poi abbiamo una seconda living room qua, con giardino esterno. Vi faccio vedere la parte superiore, bagno a alto livello, doppio bagno giù che non è sorgito in quadrale, bella stanza, seconda stanza enorme, può essere una bella tripla, un'altra stanza, e il top port, la suite, molto carina, con l'armadio interno, tutto manzardato, con l'armadio anche qua, mega storici qua sotto, 17. 16. 17. 18.